Buongiorno, incontriamo Fuglio Caccia, poeta, scrittore, giornalista, vive a Parigi dopo l'adolescenza e la maturità, la prima età a Montreal, in Quebec e lo incontriamo a proposito del suo romanzo, La coincidenza, che è uscito da TIC Montreal nel 2005, sì, io ho forse la webcam mia più precisa, dove due persone ignote tra di loro si incontrano per caso a Parigi e piano piano emerge qualcosa di un episodio oscuro, di una strage in una scuola. Ora, anche se l'ipotesi di questo incontro è vero, è precedente all'episodio della scuola di Brindisi, dove sono state uccise le ragazze, dove c'è stato un tentativo di strage, questo romanzo pone questa questione, ora per i due aspetti, per un verso che il romanzo prende spunto dalla cronaca, ma non è lì per illustrare la cronaca. Allora, cominciamo così, con una prima domanda, qual è la posta in gioco del romanzo, qual è la via che il romanzo trova rispetto a questo pretesto che tra l'altro fa scorrere fiumi di analisi, anche in questo momento nel caso italiano. Allora eravamo più vicino un mese e due fa all'episodio dei bambini e dei padri ebrei uccisi alla scuola ebraica di Tolone. Ti passo la parola rispetto un po' a questa costellazione di eventi spinosi. Sì, grazie Giancarlo. Parte di un'emozione che ho risentito anni fa quando ho avuto l'informazione di questa strage che si era svolta nell'89 in dicembre, dove sono state uccise una ventina di studentesse alla scuola palitecnica di Montreal. A quel momento io ero a Parigi già e ho vissuto questo, quando ho saputo anche l'identità dell'assassino, ho vissuto questo in un modo molto, molto, come dire, mi sono molto, sono stata molto commossa. Perché? Perché mi sono reso conto che questo assassino poteva essere uno dei lettori della rivista che avevamo fondato assieme ai miei amici italiani che si chiamava Viceversa. Difatti aveva esattamente il profilo di un figlio di un migrante algerino, di mamma canadese francese e poteva essere anche stato un lettore della nostra rivista che difendeva addirittura la transcultura, un vivere insieme che andava al di là delle frontiere. Dunque a partire da queste emozioni ho voluto scrivere questo romanzo La Coincidenza, mettendo in gioco questa violenza che è contenuta già nel vivere, nella nascita, già nella separazione tra uomo e donna. Il sesso divide già l'umanità, in due porzioni. Dunque questa violenza che poi è assunta attraverso la cultura, ritorna, ritorna in modo tragico attraverso questa violenza transnazionale, direi, che non è più lo scopo del politico, addirittura che è stato vissuto già qua in Europa negli anni trenta, come si sa, ma diventa abbandonato all'individualismo che ha sempre esistito, ma diventa in modo molto più evidente oggi giorno, mi sembra. C'è stato sempre questo tipo di violenza un po' folle che questo scrittore dell'inizio del novecento, che è il grande scrittore austriaco, adesso che aveva scritto un racconto che si chiamava, e abbiamo parlato, te lo posso dire, è Amok. Amok, esattamente. Allora in questo piccolo racconto, Zeg making scene a questa violenza, è molto emozionante, voglio dire, è tragico chiaramente. E ho ritrovato la stessa posta in gioco, direi, in questi assassini. Adesso sta piovendo, magari sentite, proprio fa bene. Mi sembra che è da lì che nasce questo romanzo dove i due protagonisti sono stati gli attori di questo dramma e dunque scoppia di nuovo dopo tanti anni nel passato. Sì, puoi dire in questo caso qual è la differenza che interviene nella trasposizione del romanzo? Perché può anche darsi che il romanzo dà un supplemento di verità più importante di quello che la cronaca non arriva a darsi di queste cose. Sì, volevo fare un messaggio addirittura, volevo solamente mostrare cosa avviene all'interiore dei personaggi. Quello che volevo mostrare mi sembrava un argomento più forte, sono reso conto per esempio che questa violenza che è fondamentale è fondamentale all'essere umano, diciamo, scoppia di nuovo in un contesto dove il sistema ultraliberale nel quale siamo assorbiti sta veramente facendo scoppiare tutti i legami sociali e politici. Sì, riformulo la questione di prima, ovvero qual è lo specifico di affrontare questa questione con la finzione, con il romanzo? Sì, perché il romanzo come forma artistica dà più peso all'esperienza della differenza che è al cuore della condizione umana e perciò ho voluto affrontarla. Poi c'era questa emozione di cui parlavo prima, sarebbe a dire che ho vissuto, ho rivisto chiaramente tante tante volte questa scena allucinante dove questo ragazzo disgraziato divide la classe in due e separa dai ragazzi e separa dai ragazzi e uccide le ragazze. Questa violenza che è già fondamentale, direi veramente è antologica e ha messo in scena ciò che è la condizione umana stessa, sarebbe a dire la divisione tra maschi e femmine. E lì ho risentito anche l'esperienza di una transcultura che è andata al male, si è capovolta. Si è andata a rotoli diciamo, si è inversata, si è un'inversione di una transcultura ben assunta, è lì che mi sono interrogato sul tipo di riflessione che avevamo noi in quali anni fa, la fine degli anni 80, dove nasceva addirittura questa operazione di liberazione dell'economia mondializzata. Negli anni 80 con Reagan e con Margaret Thatcher, come si sa, l'economia nazionale si è liberalizzata, è diventata mondiale, ci sono stati sempre i bisogni di questo genere, ma lì adesso è diventata molto più ampia e nasce lì. In quel momento addirittura noi, in questo gruppo di scrittori, ricercatori, diciamo, di italiani, metà, i migranti, avevamo creato questa rivista in tre lingue che si chiamava Viceversa, si rifletteva addirittura su un'alternativa a questa mondializzazione che stava nascendo, che era già abbastanza evidente a quel momento. quando questa strage è arrivata, come è venuta, non è un caso, se si riprende, c'è il fatto di cronaca a Norvegia l'anno scorso, c'è il tribunale e adesso c'è il giudizio che si sta svegliando, la stessa cosa, la stessa messa in scena e lui addirittura, questo assassino, rivendica il ritorno al fascismo duro e puro, lo dice, ma è solo, meno male. Questa violenza transnazionale è colta e presa, è messa in scena da un individuo, può essere fatto anche di gruppi, ma è lì che c'è un cambiamento, direi, a livello, direi, più, lì anche che questi fatti di cronaca si legano alla tragedia. Ecco quello che potrei dire, mi sembra, sono stato chiaro? Posso aggiungere precisioni, ma quello per esempio non è un caso, un dettaglio è l'uccisione in serie di queste cose. Si, 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 sono luoghi della riproduzione culturale, diciamo, la scuola, l'università, l'università e accadono questi fatti di cronaca, penso anche l'affare Mohamed Merah, avviene un momento delicato della vita politica francese dove ci sono le presidenziali, non è un caso, lo stesso caso è arrivato dieci anni fa, quando c'è stato questo caso, questa violenza di una merì, come dire, una... un comune a Nanterre, c'è stato un ragazzo che era molto vicino, diciamo, dei movimenti di sinistra, ma era già un po' turbito, che uccide nove consiglieri del comune di Nanterre, Nanterre è un simbolo anche già a livello del maggio 68, e quello avviene dieci anni fa, quando c'erano anche le presidenziali, c'era Lionel Jospin per il Partito Socialista, e poi c'era Jacques Chirac, e poi, come si sa, Jospin è stato fatto fuori, è stato il candidato dell'estrema sinistra, che è arrivato al secondo posto, Le Pen. Allora, dunque, tutto questo sono congiunture che fanno esplodere queste tragedie, ma sono fatte e messe in scena, diciamo, vissute a livello dell'individuo. Allora, il momento della nostra civiltà, diciamo, del mondo in cui viviamo, mi sembra, sono molto favorevoli, diciamo, a queste esplosioni di violenza, che non si possono spiegare in modo razionale, si possono solamente spiegare a livello, addirittura a livello letterario, metaforico, e cosa punta, appunto, addirittura all'assenza di metafora, che sarebbe, come sai, sono molto colpito, diciamo, dalle teorie della psicanalisi, e della figura del padre, la metafora del padre, che dovrebbe collegare tutte le altre metafore della vita sociale e politica, non c'è, e dunque, quello, se si può dare questa spiegazione, può dare una luce per capire cosa si svolge oggigiorno nelle nostre società dette avanzate, addirittura, la mancanza di una legge e di una metafora, che è quella del padre, per dare una spiegazione piuttosto a carattere psicanalitica. Sì, c'è, rispetto al titolo che è dato al romanzo, la coincidenza, riguarda semplicemente questa coincidenza tra i due che si incontrano e che presumono di non avere niente in comune, poi emerge invece qualcosa che li accomunava, o riguarda anche il specifico, c'è proprio una domanda all'autore questo, o la coincidenza riguarda anche un modo di leggere queste stragi, queste cose, non l'ho capito io questo. Ah, il titolo? Beh, il titolo... Mi sono spiegato, sì. Sì, l'incontro, come sai, non ci sono coincidenze. Faccio un riferimento anche al surrealismo, al hasard obiettivo, e non ci sono coincidenze. Dunque, chiaramente, io partino dal fatto che queste due persone, quindi protagoniste della storia, sarebbe a dire Leila, che sarebbe la sorella dell'assassino, diciamo, e Jonathan, che sarebbe uno che ha assistito in modo, senza poter fare niente, in modo impotente, a questa strage, e che si rincontrano dopo 15 anni. Allora, chiaramente era troppo grosso, la coincidenza era troppo evidente, allora ho voluto accelerare, a, come dire, a ampiare questo fatto, perciò l'ho messo nel titolo. Poi c'è il destino, c'è il destino anche, che si lega, e lì siamo a un altro livello, a livello della tragedia, c'è veramente in questo titolo, già in noce, la storia, la tragedia stessa, che è una tragedia individuale, che permette di dare una luce a ciò che si svolge nella società. ecco, quello che posso dire sulla coincidenza, e facendo anche riferimento al poema del poeta Malarmé, l'hazard, il D, il D di Hazard. E poi, voglio fare anche un punto... Il Q di D mi abolirà già mai l'hazard, quello? Esattamente. Poi voglio anche, permettermi di dare un'altra luce, è il fatto che questo romanzo è dedicato a Nicola Calipari, questo italiano, che è morto nel 4 marzo del 2005, a Bagdad, che fa addirittura capovolgine, si mette davanti a una giornalista che è stata kidnappé, che è stata rapita, e si fa uccire al suo posto. Lì è molto... è un atto chevalresco, come si direbbe in francese, ma che permette di, diciamo, equilibrare il bilancio. Scusate, il mio italiano certe volte si scappa, ma sembra essere abbastanza chiaro su questo punto. Una questione che riguarda ancora, diciamo, il libro più che la questione della strage, che il protagonista, che è Jonathan Hunt, non so come si pronuncia io in inglese, e che, insomma, si suicida, no? Mi chiedo se questo aspetto sia come gettare un'ombra sulla possibilità di leggere... che punto c'è la questione che, per dire così, se si capissero, li si avvalerebbero, li si legittimerebbero, non lo so. No, ma è una tragedia. E' un suicidio curioso. Non è un'accettazione della morte, diciamo, per me, come dicevo, si lega alla meccanica della tragedia. La meccanica della tragedia domanda, esige il sacrificio dell'eroe per permettere, per permettere, diciamo, alla società di avere un equilibrio, di riprendere il suo equilibrio. E quello che accade in questo romanzo, Jonathan capisce che si deve sacrificare, perché è il suo destino a quel momento e colui che deve portare, diciamo, la morte è questa ragazza che trova così per caso e di cui si innamora, si innamora, ma quando scopre, quando scoprono entrambi che sono tutti e due diciamo, protagonisti di una strage che si è svolta anni fa, la violenza del loro amore si scoppia e diventa odio, così, in modo molto fulgurante. E lui mette in scena la sua morte e diciamo, esigendo quasi in modo molto violente da questa ragazza di portare di suicidarlo, diciamo. Così si conclude la fase, il ciclo della violenza. Questo anche come è stato messo in scena tante volte nelle tragedie anche antiche e anche moderne, penso anche il bel film adesso di adesso mi scappero i nomi, scusatevi, ma comunque ecco detto la tragedia è la risposta e il sacrificio dell'eroe è la risposta per l'equilibrio sociale e politico. Dimmi Giancarlo. Se non questo romanzo facendo parte della trilogia ed è il romanzo di mezzo, in effetti se la memoria non mi inganna non è morto nel terzo romanzo. Jonathan o è io? O sono io che lo faccio io? Cioè risulta un artificio e non è per davvero morto. No no diciamo che no no è un altro personaggio che si chiama Richard Kilroy e c'è un episodio dei diciatti nel terzo romanzo dove si vede la protagonista lei che scappa via e si trova a incontrare Jonathan e lì si capisce chi ha ucciso chi avrebbe ucciso veramente diciamo il personaggio diciamo per dire le cose in modo semplice non è detto in conclusione al romanzo che lo mostro ancora non si sa si sente solamente un copo di pistola basta ecco ma non si sa e poi si sente scappare la ragazza che scende le scale in modo molto vivace molto rapido che va via ma non si vede non è mostrato cosa succede esattamente in quella mezz'oretta dove tutto si gioca nel terzo romanzo racconto ciò che è stato si è svolto e lì faccio lì allora chi ha ucciso Jonathan Hunt e tutto la messa in scena che ho intuito sarebbe lì la messa in scena sia del lettore che diventa la metafora della morte diciamo ecco quando scappa via quando scappa via ma questo è un diciamo un procede come dire che quello che ho voluto utilizzare per per dramatizzare diciamo e mettere in 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 francese si dice metranabim l'atto di leggere e di interpretare e lì io sono ossessionato da questo fatto oggigiorno diciamo i romanzi sono tutti diciamo un po' troppo lineare quella è la mia critica in generale magari allora ho voluto diciamo spostare la linea di interpretazione e come spostarla mettendo in scena il lettore che diventa attore della messa in morte della morte di un protagonista di romanzo ecco 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 come posso spiegarlo bene Fuglio siamo giunti a conclusione e ti ringrazio per la conversazione io auspico che i tuoi libri trovino editori in Italia e ci diamo l'appuntamento a qualche altra conversazione intorno ad altri frutti delle tue opere va bene grazie mille ti ringrazio Giancarlo ringrazio anche Riccardo della sua gentilezza e spero risentervi a presto a presto grazie a presto a presto